ciao fragoline nuovo video e come leggete dal titolo proviamo il fondotinta cambia colore se voi avete già visto il video che ho fatto un mese fa di dove ho acquistato questo prodotto credo che l'avete visto se non l'avete visto andatelo a vedere perché non voglio stare a spiegare dove l'ho acquistato perché voglio fare questo video subito per cui iniziamo a provare vedere questo fondotinta cambia colore perché l'ho visto da una youtuber che seguo e ha fatto anche lei questo video dove ha provato questo fondotinta per cui ero curiosa anch'io di provarlo e ovviamente lo proviamo insieme adesso il costo non lo so, non mi ricordo quanto l'ho pagato per cui andate a vedere il video se non l'avete visto allora si chiama TLM fondotinta color changing qualcosa del genere ultra hd 4k non so se si legge credo di sì comunque questo si presenta così lo andiamo ad aprire non l'ho mai provato perché l'ho acquistato ma non so com'è il packaging è fatto così per cui se vedete il fondotinta è bianco il fondotinta bianco è di 30 ml praticamente tu lo metti sulla faccia e lui c'è lui e questo prodotto credo che cambia dalla tua carnagione non lo so adesso lo proviamo perché non l'ho mai non l'ho neanche aperto perché lo volevo provare con voi ed è carino il packaging è tutto bianco credo che sia così ok lo proviamo insieme prendiamo la spugnetta quasi quasi lo metto un po' qui per cui vi faccio vedere se vedete bianco credo che si vede scusate per la luce ma siccome non c'è il sole mi tocca accendere la luce non so se si vede bene comunque bianco lo mettiamo un po' si vede che bianco lo mettiamo un po' sulla divento tipo un fantasma e lo applichiamo stendendo a vedere che non so che devo picchettarlo perché se io mi trovo bene con questo fondotinta di sicuro lo vado a comprare di nuovo perché non trovo mai un fondotinta adatto alla mia pelle per cui lo andiamo a picchettare allora da vedere la differenza o ne devo mettere di più credo che devo picchiettarlo non penso che devo stendere il prodotto non so se se la telecamera riesce a vedere se c'è qualche differenza almeno che si deve asciugare non lo so però se voi vedete la differenza piano piano ditemelo sotto nei commenti perché io però adesso non vedo nessuna differenza ovviamente dopo ve lo faccio vedere senza la luce il risultato di come è avvenuto dopo provo a stendorlo con boh vedete differenza io per adesso non vedo niente sto solo mettendo questo fondotinta che non ho capito se si deve asciugare oppure no non ho capito credo che si deve asciugare credo che si deve asciugare però se voi non lo so non riesco a vedere la differenza voi notate differenza perché ovviamente non è bianco io differenza qua non la vedo ne sto mettendo 3 kg per vedere se allora come coprenza se vedete anche dal video non so a me non sembra tanto allora l'odore è un po' strano non è come ha un odore beh non tanto cioè è buono come odore ma blu allora se voi vedete ovviamente non c'è il bianco però si vede risultato non lo so perché non riesco a capire allora coprenza la mia risposta è boh io adesso provo a stenderla col pennello perché forse dovrebbe essere steso col pennello che dita cioè potrei metterne altri 3 kg però devo capire se c'è la differenza non lo so allora facciamo così ne applico ancora un po' per vedere se cambia qualcosa se cambia qualcosa ve lo faccio vedere non sto a farlo durare tanto sto video perché non ne vale la pena cioè almeno è solo una recensione di questo fondotinta per cui vediamo facendo così lo applico ancora e poi vi farò vedere ma se divento un fantasma no perché quindi sono tutta bianca proviamo a stenderla con il pennello questa è la seconda applicazione allora la differenza c'è l'ho applicato due volte la differenza c'è e direi che è vero appena lo applicate dipende dalla vostra pelle cioè dal colore della vostra pelle il fondotinta cambia colore io adesso vi farò vedere a fine video ovviamente come è cambiato da prima a dopo e ve lo faccio vedere anche sulla mano perché di sicuro così non lo state vedendo il colore che è cambiato uguale identico alla mia pelle per cui direi che è perfetto questo fondotinta di coprenza direi che copre dovrebbe essere buono perché è un'ottima coprenza l'applicazione per applicarlo al viso direi che è ottima perché non fai fatica cioè si assorbe subito appena lo picchietti o usi il pennellino per cui direi che io sono soddisfatta del mio acquisto perché forse ho trovato il mio fondotinta che va bene per la mia pelle così non devo stare a far fatica a trovare quello giusto per cui io darei un voto su l'otto perché ancora lo devo attestare siccome è la prima volta lo dovrei attestare cioè dovrei attestarlo meglio fatemi sapere se volete sapere come mi sono trovata dopo un mese così vi farò sapere vabbè avete capito e vi farò sapere se siete interessati a vedere com'è il risultato comunque vi faccio vedere adesso la differenza sulla mano e sulla faccia perché con la luce non vedete niente e non vedete il risultato per cui io darò un 8 come voto e vedremo più avanti se sarà quello giusto se sarà quello migliore per cui io sono soddisfatta per il momento per questo prodotto anche come prezzo secondo me è buono perché 30 ml lo dovete mettere solo poco io l'ho messo di sicuro 3 kg poi di sicuro non l'ho steso bene e diciamo che infatti qua mi sembra che non l'ho steso bene sembra ancora bianco e qua marrone sono un po' troppo acchiazze lì non si vede ma vabbè metterò posto ancora con la spugnetta e vi farò vedere il risultato niente spero che questo video vi sia piaciuto spero che questo prodotto anche fatemi sapere se voi volete acquistarlo o se l'avete già provato perché non si sa mai se qualcuno ha già provato questo fondotinta niente detto questo vi chiudo qua il video vi lascio la clip di come è il risultato che l'ho ripetuto almeno 10.000 volte e detto questo un bel mi piace iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto seguitemi su instagram per sapere quello che non pubblico più spesso diciamo qua su youtube un commentino qua sotto se l'avete provato se l'avete acquistato eccetera noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao